Papa Francesco per la prima volta in Puglia. La notizia era già stata diffusa lo scorso 19 dicembre anche da questa emittente televisiva per ufficializzare la visita del Pontefice a San Giovanni Rotondo, prevista per sabato 17 marzo prossimo. Essa arriva in occasione del centenario dell'apparizione delle stimmate di San Pio da Pietrelcina e del cinquantesimo anniversario della sua morte. Secondo il programma comunicato dalla Sala Stampa Vaticana e diffuso maggiormente in questi ultimi giorni. Il 17 marzo prossimo Papa Francesco decollerà da Roma alle 7 per arrivare a Pietrelcina alle ore 8. Qui sarà accolto dall'arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca e dal sindaco Domenico Masone. Dopo aver sostato in preghiera alla Cappella delle stimmate, sul piazzale della Chiesa il Papa incontrerà i fedeli, quindi la comunità dei Cappuccini. Alle ore 9 l'elicottero del Santo Padre decollerà verso San Giovanni Rotondo. All'arrivo nel paese Garganico, previsto per le 9.30, Papa Francesco sarà accolto dall'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Michele Castoro, e dal sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla. Quindi visiterà il reparto di pediatria oncologica dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Alle ore 11 sul piazzale della Chiesa di San Pio, Papa Francesco presiderà la solenne concelebrazione eucaristica e dopo aver salutato la comunità locale dei Frati Cappuccini, il Papa lascerà San Giovanni Rotondo alle 12.45 per far ritorno in Vaticano. Sul volto di Padre Pio risplendeva la luce della risurrezione. che chiunque venga nella vostra bella terra, io voglia di andarci.